Buonasera a tutti e benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale. Oggi vorrei parlarvi di due argomenti, uno che è di attualità, se ne parla anche ieri 26 novembre nella campagna elettorale che si sta avviando c'è questo tentativo perché ogni partito vuole vincere questa campagna elettorale come è normale che lo vogliono fare, ma si cerca sempre comunque di anacquare, di intorbidire un po' le acque da tutte le parti. E' venuto fuori questo argomento delle fake news, o cioè delle notizie false che girano su internet. Addirittura Renzi preme o vuole creare una legge contro queste notizie false all'interno del web. Io volevo leggervi una riflessione che hanno fatto i compagni di NP1 che potete leggere ogni settimana, loro fanno un incontro settimanale che chi vuole può seguirlo anche via Skype. Basta andare nel loro sito quinterna.org e dare la disponibilità a sentire le loro riunioni. Ecco, uno di queste commentava proprio questa notizia delle fake news o delle notizie così false. In realtà se ne parla adesso perché c'è la campagna elettorale e se ne parla molto, però in realtà di tanto in tanto qualcosa viene fuori quando ci sono varie accuse tra i grandi. Vi ricordate il discorso della campagna elettorale negli Stati Uniti, accusato l'URSS di mettere notizie false attraverso internet o per esempio anche quando ci sono stati gli scontri in Catalogna. Chi diceva che in realtà non ci sono stati quegli scontri con la polizia, però erano foto vecchie eccetera eccetera. E beh c'è un punto fondamentale, una riflessione. Dice che parlando di questi fatti i compagni dicono sull'influenza dei social network sulla formazione delle idee. Secondo il settimanale inglese, commentano un articolo dell'Economist, i social che hanno avuto un ruolo primario nelle rivolte negli ultimi anni in Ucraina, a partire dalla piazza Maidan in Egitto con la caduta di Mubarak, sono anche utilizzati per manovrare la cosiddetta opinione pubblica e tale settore è caratterizzato da una limitata libertà i cui grandi gruppi come Facebook, Twitter e Google manipolizzano l'informazione condizionando milioni di esseri umani. Quello che l'Economist non dice è che la guerra moderna si combatte online e che la rete è diventata un'arma più efficace di un cannone e come in ogni guerra gli stati cercano di intervenire per difendere i loro interessi e soprattutto per controllare il loro grande avversario, che saremmo noi il proletariato. Ogni stato moderno ha un sofisticato apparato di intelligence e utilizza tutti i dati a disposizione per tutelarsi tecnologicamente e politicamente dalla minaccia del collasso. Ovviamente individua il nemico nelle classi sfruttate, dato che esse tendono a mettere in discussione la condizione in cui si trovano. E' quindi naturale che tutta l'informazione sia indirizzata a consolidare l'ideologia dell'eternità, del capitalismo e del lavoro salariato. Da questo il risvolto più interessante dell'odiana ciberguerra è senz'altro quello della simmetria. Mentre un tempo una rivolta era irrimediabilmente povera di strumenti in confronto a quelli dell'apparato statale, e oggi il rapporto tende ad avvicinarsi alla parità, almeno per quanto riguarda l'informazione. Quando il governo egiziano, sull'onda delle proteste anti-Burah Mubarak, ha spento internet, i giovani di piazza Teher hanno aggirato il blocco delle comunicazioni allestendo una rete MASH. Da tempo, dicono questa metafora, il dentifricio è uscito dal tubetto. Nessuno potrà fermare milioni di anonimi smanettoni coordinati in vista di uno scopo, nemmeno un esercito. In vista dello scopo non sarebbe certo tanto quello di andare a fare un revenue o qualcosa altro. Infatti, molte di questi network Facebook e Twitter, per molto tempo sono utilizzati come passatempo e come anche imbonitore dei crani di noi lavoratori sfruttati, che a fine lavoro ci rilassiamo guardando le ultime novità su Facebook, eccetera, e quindi ci dimentichiamo un po' della giornata magari schifosa che abbiamo passato nel nostro mondo del lavoro. Però quando la polarizzazione, cioè quando le molecole si polarizzano su un unico obiettivo, non ci sono ostacoli per raggiungere quell'obiettivo. Quindi, ritornando, sintetizzando, le fake new sono un po' come la legge sulla privacy, non è privacy soltanto per i potenti, mentre per gli ultimi la privacy non esiste perché tutti, la classe, i potenti possono andare a vedere che cosa hai, come la pensi, eccetera, eccetera. Mentre per i potenti c'è la legge della privacy, così come adesso chi mette queste informazioni errate non sono tanto gli ultimi, perché c'è bisogno anche di apparati sofisticati, ma potrebbe anche esserci all'interno di una guerra fra partiti qualcuno che lo fa, ma è una guerra fra partiti, non è uno scopo ben preciso, cioè quello di ribellarsi da qualcosa. Allora, quando succederà questo, vedremo la polarizzazione di tutti i partiti che si coaguleranno contro il proprio nemico di classe, cioè il proletariato. Altra notizia che è apparso e che appare molto di frequente, cioè scadenze frequenti, è il fatto che l'inflazione non parte. L'altro giorno, il 18 novembre, è apparsi sui giornali un resoconto della BCE e Draghi, il presidente della BCE, parla e dice che l'inflazione non cresce. L'unica cosa, una delle tante cose che dovrebbero crescere dovrebbero essere i salari, infatti lui dice, cito sul giornale il manifesto 18 novembre di quest'anno, la questione chiave qui è la crescita dei salari. Dalla prima metà del 2016 la crescita delle retribuzioni per dipendente è aumentata recuperando circa la metà dell'ivario rispetto alla media storica, spiega ancora il governatore centrale, ma le tendenze generali rimangono moderate e non diffuse, ma questo articolo riprende un po' l'opinione, sempre la stessa opinione di Draghi, fatta il 7 aprile sempre di quest'anno, dove si diceva noi abbiamo fatto attraverso una spinta monetaria, adesso dovrebbe far muovere l'economia, far salire la crescita, diminuire la disoccupazione, aumentare i salari e per questa via i prezzi per far aumentare l'inflazione. Allora l'inflazione che una volta negli anni dell'altro secolo, negli anni 80, era così demonizzata e quindi c'era la lotta all'inflazione, l'inflazione doveva stare bassa, adesso che è bassa bisogna riprendere l'inflazione, ma soprattutto questo fatto dei salari, dei salari che ormai i lavoratori dovrebbero attifare Draghi, perché nemmeno le indicazioni salariali le fanno più le organizzazioni sindacali, le indicazioni sindacali fanno la moderazione salariale compatibile con l'economia nazionale, con l'omina dell'azienda in prima cosa. Mi sorge subito una domanda, ma chi dovrebbe aumentare i salari? Dovrebbe aumentare lo Stato? Lo Stato ha dei vincoli, bilancio di stabilità e quindi lo Stato non può far aumentare i salari perché altrimenti aumenterebbe il debito. Chi dovrebbe quindi aumentare questi salari? I privati? Ma i privati non possono aumentare i salari perché altrimenti, secondo quello che dicono i rappresentanti della Confindustria, altrimenti farebbero aumentare il prezzo dei prodotti che poi vanno sul mercato. In pratica è un po' il cane che si morde la coda, uno che dice dovrebbero aumentare i salari, l'altro dice che io non li posso aumentare, li deve aumentare gli altri, eccetera. Sta di fatto che comunque questi salari non diminuiscono, le condizioni di vita dei giovani peggiorano sempre di più e vediamo che ci sono sempre più incentivi alle industrie, incentivi statali e questi incentivi statali per abbattere il costo del lavoro. E anche tutto quello che si sente oggi in campagna elettorale, abbattere le imposte alle aziende e ai lavoratori in pratica sono soltanto parole elettorali. Ma vediamo perché l'inflazione non cresce attuando, avendo la chiave di lettura di Marx. Allora il prezzo delle merci, da cosa viene preso? Cosa sono gli elementi in pratica che fanno aumentare o diminuire il prezzo delle merci? Allora il prezzo delle merci, due merci si scambiano perché all'interno del loro corpo, della loro anima, c'è un'anima che è il tempo di lavoro speso per creare, è la legge del valore che in fondo non è difficile da capire. Quindi è il lavoro, che la quantità di lavoro è inserito nelle merci per produrre, lo sappiamo anche noi, non serve tanto leggere Marx quando noi all'interno della fabbrica ci chiedono sempre di lavorare di più, perché così più pezzi noi facciamo, il costo dell'unità di prodotto viene suddivisa per tanti prodotti, quindi il prezzo diminuisce per abbattere la concorrenza. Quindi di conseguenza i prezzi delle merci tendono a crescere, ma tendono a crescere di più soprattutto in un mercato asfittico come quello adesso, che c'è una sovraccapacità produttiva, dove c'è la carenza di domanda, così dice il manifesto, scusate il Sole 24 ore, il giornale della Confindustria. Quindi questi termini fanno un po' l'occhiolino a quello che diceva Marx, cos'è per esempio quando si sente dire un eccesso di offerta sui mercati globali? Non è per caso il concetto marxista della sovraccapacità produttiva? O un altro termine, l'inflazione di beni industriali non emergenti pari in media al 0,3% dal 2014 a oggi contro una media pre-crisi dello 0,3%. È una conferma statistica della legge Marxiana dell'incremento decrescente degli indici della produzione industriale. I prezzi sono infatti nient'altro che la forma in cui si esprime il valore uscito dalla produzione. Ecco quindi perché questa legge per esempio della caduta tendenziale del saggio medio del profitto sta a dimostrare che il capitale deve produrre sempre di più per mantenere la stessa quantità di profitto. Magari il profitto aumenta ma il tasso diminuisce perché la composizione organica del capitale per produrre sempre di più, l'esempio adesso dell'industria 4.0 si investe sempre di più una marea enorme di soldi per comprare i valori strumentali, cioè macchine, robot, i componenti per la materia prima eccetera e si va a comprimere sempre di più i lavoratori salariali, quindi i lavoratori, gli operi, operai all'interno della fabbrica diminuiscono e sappiamo che il plus valore ne esce semplicemente è un rapporto tra plus valore fratto valore, cioè il salario e di conseguenza se diminuiscono i lavoratori il prezzo del salario viene spalmato su più prodotti e quindi viene a diminuire. L'esempio è più banale ma lo portava anche un giornale l'altro giorno quando noi parliamo dei supermercati aperti H24 e alla sera arrivano i filippini, i lavoratori filippini o qualcun altro extracomunitario a riempire gli scafali e guadagnano 5 Euro all'ora, bene il giornalista si meraviglia e dice questi qua in due minuti mettono e spongono il valore del loro salario, il valore della sua ora, in due minuti 5 Euro, quindi poi tutto quel prezzo, tutti quei prodotti che loro mettono sullo scaffale è lavoro gratuito, è lavoro gratis perché da quel lavoro, cioè dal plus lavoro, lavori di più di quanto vieni pagato, da quel plus lavoro nesce il plus valore che poi va a formare il profitto del padrone. Oggi i padroni non esistono quasi più, formalmente esistono i manager e l'impresa, quindi di conseguenza anche l'iniezione straordinaria di denaro che la banca centrale, la BCE fa in continuazione per sostenere l'inflazione, per far partire l'inflazione, le banche preferiscono perché c'è una carenza di richiesta di investimenti nell'industria e sappiamo che da lì viene fuori il valore, le altre, le banche che comprano derivati o giocano in borsa, quella è una speculazione, è semplicemente un gioco, uno perde, uno vince e via dicendo, ma il vero valore esce dalla produzione o dal servizio vendibile e di conseguenza ci stanno preparando a una nuova bolla, una bolla speculativa che prima o dopo dovrà scoppiare e quando scoppierà saranno disastri per tutti perché non c'è più la possibilità di recuperare, poi pensate a migliaia di miliardi che le banca centrale acquista dei debiti derivati dalle banche, le banche ricevono questi soldi freschi dalla banca centrale ma anche comunque dalla stessa banca italiana che compra, lo Stato italiano ha finanziato le banche in 24 ore e ha dato 20 miliardi perché altrimenti il sistema cosiddetto crollava ma quei 20 miliardi sono stati raccolti dalla collettività e quindi impoverite la collettività per dare alle banche che erano in sofferenza, non riuscivano a pagare questi debiti, quindi queste banche si trovano con dei soldi in mano che non essendoci la domanda di investimenti nell'industria lo riversano nella finanza e quindi giocano nella speculazione anche perché comunque il rientro dei capitali nell'industria o attraverso la richiesta di mutui è a lunga scadenza mentre la finanza è più a breve scadenza quindi l'utile si ritorna subito. Quindi l'inflazione in questi termini non può partire ma ripartirà in una cosa spaventosa che coinvolgerà tutti quanti. Per questo diciamo che il sistema di produzione capitalistica è arrivato alla fine del suo riuscire a dare qualcosa di benessere alla collettività. Infatti la collettività oggi sta soffrendo, sta soffrendo non per carenza di produzione, non per carenza di prodotti ma perché essendo basata sulla privatizzazione dei mezzi di produzione e quindi anche di distribuzione la gente sta morendo di fame o per esempio non si va più in pensione perché non ci sono più denari ma non che non ci sono più merci, non ci sono più prodotti che possano far vivere bene la collettività. Basta andare un attimo al mercato, al mercato orionale e guardate quante bancarelle vendono vestiti, è una marea immensa, si potrebbe penso vestire dieci volte l'umanitano di tutti questi vestiti che poi per tenere alto i prezzi andranno buttati via, andateli al macero, passeranno di moda eccetera. Quindi è una società dello spreco, è una società che non vive più nell'armonia tra uomo e natura, non c'è più questo scambio organico tra uomo e natura e la specie umana fra di essa, per cui è l'inflazione che non parte, sta a dimostrare ulteriormente che questa società non può dare niente di più, niente di più di benessere della collettività ma anzi ce lo sta rimangiando, sta mangiando tutto, stiamo perdendo tutto. Bene con questa riflessione, io chiudo e ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!